Volevo condividere una bella esperienza che ho fatto a marzo durante il periodo della chiusura totale. Come molti di voi sapranno, Casa Betania si è occupata, preoccupata, proprio come famiglia, di preparare dei pacchi alimentari da portare a queste piccole famigliole, alle mamme con i piccoli, che sono più o meno nel tempo passati per Casa Betania, ma anche altri. E quindi qualcuno di noi poi si è occupato di consegnare questi pacchi. Diciamo che la prima esperienza positiva è stata proprio all'arrivo a Casa Betania. Tutti questi pacchi allineati, preparati, pieni di tutto il necessario, cioè la preoccupazione dietro questi pacchi che ci fosse tutto quello che poteva servire a queste mamme che momentaneamente non lavoravano, e tutto il necessario, anche qualcosa di più, un po' di cioccolata, un po' di pizza, tutto ciò perché stessero bene. Quindi non soltanto tutto ciò che serviva. E così mi ha dato la sensazione ancora di più di famiglia, quello che facciamo noi poi con i figli grandi, hanno preso la loro strada, la loro vita. Però poi quando li possiamo aiutare, insomma, ci mettiamo il necessario e il superfluo pure. E quindi da lì questa cura proprio, questa vicinanza, questo affetto. E quindi quando poi caricavamo tutti questi pacchi in macchina, mi sono sentita veramente durante la strada, no? Io che trasportavo non soltanto qualche cosa di fisico, di pratico, ma veramente sentivo di trasportare un'attenzione, di trasportare un affetto nei riguardi loro. E poi l'incontro con i vari gruppettini, con qualcuno mi sono incontrata con i bimbi, ragazzette, ragazzine che scendevano a prenderlo, oppure con le mamme. Ed è stato un momento così bello. Lo aspettavo anche veramente con piacere. È stata proprio una condivisione di qualche momento, la condivisione di qualche pensiero, di tempo, di sorrisi. Perché poi, devo dire, nonostante il momento non fosse bellissimo, però c'è stata proprio una condivisione positiva. E mi sono, non lo so, mi sono sentita molto intima con loro, molto, veramente abbiamo condiviso tanto. Tant'è che adesso, quando le penso, proprio le penso per nome, a volte mi viene, non so, un pensiero cosa staranno facendo, come sarà andata questa cosa, le bambine andranno a scuola. E le penso proprio per nome. Come si è stabilito una condivisione, un rapporto, un'intimità profonda. E niente, è stata veramente, veramente un'esperienza, un'esperienza positiva.